Benvenuti a meteogiuliaci.it, oggi lunedì 8 ottobre un po' di nuvole su tutta l'Italia con qualche debole pioggia sulle regioni del medio adriatico Calabria e Sicilia per la coda della perturbazione debole giunta ieri sull'Italia. Ma comunque sarà questa una settimana piena di nuvole almeno fino a giovedì sull'Italia per il passaggio continuo di ammassi nuvolosi provenienti dall'Inghilterra e diretti verso i Balcani ma che l'ammiranno anche l'Italia. Poi addirittura tra venerdì e domenica piogge e diffuse rovesce temporali su tutta l'Italia per l'arrivo della perturbazione numero 2 di ottobre. Ma vediamo in dettaglio l'immagine del satellite delle ore 8 di questa mattina, vedete un po' di nuvole su tutta l'Italia, molte nuvole sul nord Europa e sull'Inghilterra, quali nuvole si guetteranno a infastidirci almeno fino a giovedì su tutte le nostre regioni. Bene, passiamo all'immagine successiva, questa è la situazione globale prevista per oggi sull'Italia, vedete nuvole un po' ovunque, qualche piovasco sulle Alpi, qualche piovasco sull'Appennino, Romagnolo ed Emiliano, qualche pioggia anche sulla Calabria e sulla Sicilia. Per quanto riguarda le temperature massime, queste saranno in calo soprattutto sul nord Italia e sulla regione del Medio Alto Adriatico, dove le massime non supereranno i 20-21 gradi, invece ancora temperature gradevole al sud con temperature massime tra i 25-27 gradi. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.